Non è più e non è solo un'azienda commerciale di prodotti per l'alimentazione, ma è anche un centro nel quale non si manca di fare cultura. L'azienda Agrovo di Pagani, oltre alla commercializzazione, organizza infatti quasi mensilmente incontri fra chef e maestri pasticceri di fama nazionale ed internazionale, con i nostri pasticceri che sono desiderosi di apprendere e conoscere nuove tecniche di produzione e nuovi prodotti alimentari. Sono stati già molti maestri che negli ultimi tempi si sono avvicendati, confrontandosi con tanti maestri nostrani del dolce. E ultimo, in ordine di tempo, anche il maestro chef pasticcere Denis Dianin, padovano, che ha tenuto una lunga e interessante lezione sul lievito madre e il suo utilizzo nella creazione del dolce natalizio, il panettone. Abbiamo queste due giornate, tra oggi e domani, abbiamo appunto queste due giornate dove parleremo di quello che è il mondo del lievito naturale, perciò il lievito madre, parleremo un po' del panettone, l'applicazione del mondo sulla prima colazione, ma soprattutto proprio quello che è il mondo del lievito madre legato a tutti i prodotti lievitati di pasticceria. Il lievito madre è la base per quello che riguarda il panettone, perciò il panettone deve essere assolutamente fatto sul lievito madre, anche perché da disciplinare non si può neanche chiamare panettone, tra l'altro. Da disciplinare deve essere fatto sul lievito madre. Abbiamo introdotto quello che è un po' il mondo del panettone, poi andremo a fare un prodotto integrale per il prodotto della prima colazione, perciò una brioche integrale, sempre con il lievito madre. La città la conosco perché comunque ci vengo, ho sempre modo, e poi devo dire la verità ho anche un sacco di amicizie qua in zona, perciò un sacco di colleghi. Ritengo che come tutti i lavori deve piacerti, devi trovare che chi te lo fa piacere in realtà, perché è molto importante questo aspetto. Il segreto è che qua in azienda nostra troviamo una famiglia, che noi l'azienda Agrova l'abbiamo sempre sviluppata, già negli anni passati tramite mio padre, come membro di una famiglia. Anche i nostri dipendenti li teniamo come una famiglia. A lui quando sta qua, diversa da altre società, senza nulla togliere altre società, si sente in casa. E questo è il segreto che l'azienda Agrova ospita tutte le persone, sia dal nord che dal sud. Lui sta portando questa cultura da tanto tempo, come d'altronde le persone che ho sovralengato da prima, già all'inizio hanno portato. Infatti, sì, il lievito madre, infatti questa è un'altra procedura, rispetto ad altre manifestazioni che abbiamo fatte, perché questo è un processo un po' delicato. Però come sto notando, negli ultimi periodi sto vedendo anche gli altri che si stanno affacciando. Ricollegando il discorso che ho fatto nell'ultima intervista, sto vedendo molti che stanno andando verso sempre la qualità, un servizio dare alla clientela in un prodotto diverso, perché siamo sempre attenti all'alimentazione e qualche prodotto di conservanti. E lui comincia a imparare dal lievito fino alla crescita del penetore, che c'è un grande lavoro dietro.